Riprende a Reggio Emilia in provincia la campagna di informazione contro le truffe ai cittadini e sulle liberalizzazioni del mercato dell'energia. Il progetto, promosso da Feder Consumatori in collaborazione con il sindacato pensionato Spicigiel e Hauser, si svolgerà nel rispetto delle più attuali disposizioni anti-Covid previste dal governo. Lucia Lusenti di Feder Consumatori ci ha spiegato di che cosa si tratta. Feder Consumatori ricomincia grazie alla collaborazione con Spicigiel e Hauser a incontrare la popolazione del territorio. Cerchiamo nel rispetto di tutte le norme di sicurezza di ricominciare appunto a incontrare i nostri associati e non solo. Questi incontri infatti sono aperti al pubblico e sono fatti per riattivare una vicinanza alle persone che vivono nei comuni della provincia e anche nel comune capoluogo. Vogliamo parlare delle variazioni che il mercato dell'energia sta per subire, quindi l'abbiamo già detto tante volte, alla fine del 2021 dovrebbe cominciare ad esserci solo il mercato libero dell'energia e dovrebbe dismettersi del tutto il mercato tutelato. Vogliamo spiegare come affrontare questo cambiamento, come farlo in sicurezza, vogliamo rispondere alle domande delle persone che si trovano magari un po' stranite da queste variazioni, vogliamo cercare di dare strumenti per proteggersi dalle solite truffe e raggiri che avvengono tramite i venditori porta a porta, spessissimo tramite telemarketing, imparare quindi a riconoscere dei punti di riferimento per poter tutelare se stessi e la propria famiglia senza però scatenare ansie di nessun tipo e, come dicevamo, nel rispetto della più assoluta sicurezza, per cui noi adesso chiediamo la prenotazione agli incontri, teniamo un numero massimo di persone a seconda della capienza delle sale, ovviamente c'è l'obbligo di mascherina e teniamo un tracciamento di chiunque partecipi alle nostre iniziative. Per cui in sicurezza cerchiamo di diffondere di nuovo un senso di comunità e partecipazione con le organizzazioni che da sempre collaborano su questo tema, quindi FederConsumatori, SPI e Hauser. Tutte le informazioni saranno disponibili anche sul sito web e sulla pagina Facebook di FederConsumatori Reggio Emilia. FederConsumatori, per favorire anche chi non dovesse sentirsela di partecipare ad iniziative pubbliche, sul proprio social network, su Facebook FederConsumatori Reggio Emilia e sul sito www.federconsumatori.re.it pubblica informazioni, video e tutto ciò che concerne le iniziative che stiamo sviluppando, quindi sia la promozione dell'iniziativa stessa che il contenuto dell'iniziativa, per cui da qualunque parte della provincia è possibile partecipare anche senza recarsi fisicamente nel luogo dell'iniziativa. Truffe e liberalizzazioni del mercato rappresentano soltanto una parte dell'attività che svolge FederConsumatori. FederConsumatori non parla solo di truffe, anzi, i temi nostri sono diversi, dalla questione del risparmio, con l'ultima avvertenza più grossa dei diamanti, alle questioni anche più recenti che sono denti, cioè la società fallita a livello odontoiatrico, e poi tante altre cose riguardanti la contrattualità, i consumi, l'energia, la telefonia. Quindi noi ci siamo, siamo aperti, siamo aperti anche in questo momento difficile, ma ci siamo, ci siamo in tutte le zone, sia a Reggio che in tutti i nostri distretti che vanno dalla montagna fino alla bassa.